Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio della serie Hardcore E che cazzo aprono la farnaccia? Non ne ho manco io idea Allora vediamo, dovrebbe essere notte Se il cielo non mi inganna è notte ragazzi Quindi andiamo a dormire velocementissimo e superiamo questa notte orribile Superata la notte orribile dovremmo continuare la costruzione del mitico Uh, dei blocchi Del mitico magazzino Però, prima di tutto direi di far figliare un attimo le mucche Perché in questa maniera sfruttiamo ogni minimo momento per farle riprodurre e poi per mangiarcele Ehm, dove è il grano? Vediamo se funziona l'orto qua sotto Vediamo un secondo Se sei tipo sbagato, non so Quindi prendiamo i semini, mettiamo qua e mi sei sbagliato Io mi chiedo veramente come sia possibile questa cosa Vediamo E' vero, così però è un po' proprio Vabbè, poi vedrò il da farsi, magari abbasso tutto di un blocco va Probabilmente farò in quella maniera Ah, qua si è sbagliato, magicamente Ok, meno male Ehm, torniamo sopra E andiamo a sfumare le mucchine Venite signore mucche Mangiate tutto quanto che vi fa bene Vi fa bene la salute, il grano E farà bene anche a me Non vi mangerò Perché io vi si nutreranno soltanto perché voglio mangiarvi E bom Ok Quindi continuiamo questa costruzione che è molto complessa Ve l'assicuro E non ho idea di come fare Dietro non mi fa impazzire Questo albero va abbattuto Comunque Perché non mi piace No Va abbattuto Occupa troppo spazio E io non riesco a buildare molto bene la casa Quindi chi se ne frega che era un albero principale Amen Quello sposteremo Eh, devo vedere come fare con l'angolo qui Perché non mi piace in questa maniera Vabbè, una cosa per volta Ora raccogliamo un attimo qua E dovrei tappare questo pezzettino Se mi ricordo bene Sì E come lo tappo? Ma Per forza Io però direi Quasi quasi Metterci una scala Posso? Magari sì Perché così qua lo tappo E qua metto una scala Quasi quasi Così viene tutto un pochino più omogeneo Prendiamola E buildiamola Mettiamola in questo senso Easy Easy, easy Però qua Questa così non mi piace Mettiamo così Ci sta E mettiamo questa così allora Ci sta tutto Dai Dai aroma sempre E questa così Ok Ci si Ci si un botto Vediamo ora che si sono tolte le foglie Come fare quell'angolo Allora Un attimo vedere Devi mettere le scale Ad angolo A questo punto Però le devo curare La crafting table No Quindi devo andare a prenderla Entriamo Facciamo un po' di scale E andiamole a mettere Una Però magari Sono più belle verso il basso Che verso l'alto Va Perché verso l'alto Poi suona Perché sono già All'altra Verso l'alto Quindi magari Viene più bello così Vediamo Sì così Forse ci posso stare Sì 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 Secondo me è meglio Poi questa così Così E poi dire qua Di mettere un altro lab Con Oh Così Figo E qua mettiamo un blocco Allora Togliamo la terra Mettiamo qua Ok Sì Ci posso stare Anche qua sopra Ci sta Qua posso togliere Mettiamo magari così No Ho preso l'alto Il vero Ok Più figo Sì 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 Molto più bello E pensiamo anche questa qua E una d'angolo Non lo so D'angolo D'angolo Non mi convince molto No D'angolo non lo mettiamo Però qualcosa d'angolo ci va Secondo me Mettiamo due slab Una Due Tre Sì Così ci può stare Sì 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 Ci sta Mettiamo anche l'altra parte Quindi togliamo tutto questo Ed essiamoci le scale Al contrario Ok Vediamo ora qua come fare Vi ho detto Ma così in realtà Secondo me Spacca in realtà Sì soltanto questa parte Sì soltanto questa parte Magari è un pochino da modificare Per realtà Ecco qua Qua metterei un qualcosa Proprio qua magari che Non c'è niente No qua Sì 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 Qua Qua non c'è niente Ci mettiamo Dei tronchi Poi mettiamo Una scaletta Come abbiamo fatto qua Però al contrario Così Sì Sì però Quindi se la mettiamo così Dobbiamo togliere Questo Che non ha senso E anche L'altro dietro No no Una più in alto Più in alto va Così Così No così Non mi piace Qui in basso Così Ok così Spacca Però Questo Dobbiamo metterla Dobbiamo così Vediamo No era meglio prima No prima no Però mettiamo una Cioè Zico sempre così Ehm No Al contrario Un pezzo Zico qua Fa cagare Dalla parte opposta Fa cagare sempre Quindi Sì l'unica Era come Messa prima Vediamo il dentro Ora che tanto Dobbiamo andare anche a dormire Vediamo di qua Di qua ci sta Un vuoto Mettendo magari Queste qua Come abbiamo fatto D'altra parte No poi L'altra parte Così così E bom Andiamo a dormire Vediamo anche il dentro Ok vediamo quindi Ah Ecco il problema Che qua devo mettere Una scala No Devo mettere per forza Un blocco Direi A questo punto Di mettere questo Andiamo da qua Ci sta Sì 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 Spacca Vediamo Così si arriva E qua Ah ecco Perché come sembra Questa Togliamola magari Anche questo Va bene Vediamo come fare Vediamo come fare il suo tetto Vediamo come fare il suo tetto Quindi qua Direi di mettere le scale Uno due tre Così Va bene E poi qua si spende tutto il magazzino E qua lasciamo una torcia C'è una torcia Una lanterna E bom Vediamo da fuori Com'è il tutto Ci sali la lanterna Però non mi piace Soltanto questa parte qua Ok così è più bello già Però anche sopra Mettiamo questo qua Qua E qua Però devo rompere quello di dietro E mettere No Metterlo a fianco E fai così E devo rompere anche quello Anzi Direi di fare un'altra cosa Direi qua Invece di mettere così Mettiamo Questi Così si paccano veramente Ok Lì ci sta Ci sta Ci sta Ci sta Ci sta Un sacco Secondo me Non mi piace Figo Sì è un po' Strana Però al suo fascino Comunque con le là le devo fare più alte Perché vuoi che da fuori si veda Il tronco dico Questo qua Voglio che sia un po' più alto Quindi così così E magari ancora due E vediamo come fare questo tetto Direi di mettere Soltanto delle salabettine così Però non a livello alto Ma a livello un pochino più basso Così non ci spona manco niente 30 salabettine Penso che bassino Cioè almeno lo spero Perché Spendere più di 30 salabettine Per fare un tetto Bah Sembra un pochino assurdo Così piccolo Io direi di prolungarlo Magari in avanti E anche di lato Sì direi di prolungarlo un pochino Il suo tetto Poi togliamo Queste scale Che poi utilizzerò dopo Probabilmente Perché noi ricicliamo tutto Siamo pro a riciclaggio E poi qua Mettiamo Le scale Ecco quelle che avevo tolto Allungato di un blocchettino Però Ugualmente più largo Meglio che niente Mi dicono Così Oh finalmente Così ci può stare Vediamo Sì Ci sta un sacco E facciamo la stessa cosa di qua Di qua direi di mettere una vetrata Ok che avevo detto niente vetri Però lì Ci servono i vetri Qua direi di Tappare Però così Eh sì Metto il legno Ehm Come così E porca troia Però questo lo devo togliere E devo mettere Una scheletta al contrario Ok sì Già meglio Vabbè ragazzi Per questo video È tutto Ehm E di nuovo Sempre rompo questa torcia Sempre Sempre Dicevo ragazzi Per questo video È tutto Abbiamo Quasi completato Il magazzino Quasi Perché non l'abbiamo proprio completato Però questi sono piccoli dettagli Abbiamo migliorato la casa Ecco Migliori della casa Ehm Comunque È finito il video Ci vediamo A un prossimo episodio Della Hardcore Oppure di Paperblitz Non lo so Di quello che vedremo Arrivederci a tutti ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti